buongiorno buongiorno a tutti siamo in un parcheggio classico americano stiamo andando alle cascate del mia gara siamo dov'è che siamo in realtà dispersi tra la pennsylvania abbiamo appena mangiato in un ristorante di dubbio con rigide il cibo la pancia ce l'abbiamo piena e ti puoi fermare abbiamo mangiato spero del pollo fritto che non sia topi o cane non lo so era buono sembravano dei topolini infilizzati tipo quelli che abbiamo trovato ieri e che si entra al parco vi raccontiamo una piccola disaventura vi volevo raccontare a chi rischiavate che venisse ucciso ieri sera perché siamo andati in un bel ristorante abbiamo mangiato a circa 5 km dal nostro hotel arriviamo in hotel io da buona che mogliettina stavo preparando tutto il necessario per oggi per questi due giorni lui era in bagno si lavava i denti già in mutande pronto tranquillo per andare a letto ecco e guardo e non c'era più non trova più questo borsello e qua abbiamo i nostri passaporti dentro il mio portafoglio i passaporti allora prima di agitarmi sono andata a letto dove sono i passaporti al ristorante è smiancato e erano rimasti 5 km al ristorante ho stabilito il record dei 5 km di corsa a piedi mondiale record mondiale 2 minuti e mezzo al ristorante passaporti e portafoglio con carte di credo dollaroni euri e tutti i nostri averi al ristorante in un ristorante per fortuna gentilissimi appena che ci hanno visto ci sono che corsi incontro che con questo in mano ma abbiamo veramente rischiato che venisse ucciso e io scema che c'era ancora lui cioè che notate che mi fido ancora di lui mi fido ancora di lui beh anche questa è un'avventura dai adesso proseguiamo col viaggio e ci vedremo nella cascrenia gara ciao a tutti da signore Fede hashtag signorefede seguiteci ciao